Buonasera, abbiamo una grande esclusiva. Ci ha concesso un'intervista il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Buonasera Presidente Trump, come mai proprio di martedì? Ok, tu devi sapere che martedì Casa Bianca si ferma. Stop work. Io, Melania e Ivanka davanti a televisione guardiamo di martedì. In America, all over the world, non esiste programma comico più bello di di martedì. Nostro idolo. Nostro idolo. Indiscutibilmente Pagnoncelli, the greatest comedian in the world. 18%, 37%, too strong Pagnoncelli. Very, very good. Ma quindi lei segue la politica italiana? Urca. Of course. Conosco tutti i politici italiani. Everywhere. Quindi conosci anche Di Maio. Oh, Gigino. Io volevo. Io volevo nel mio staff Gigino. Perché lui è capace di dire tutto il contrario di tutto. Lui è il grande face of bronze. Faccia di bronzo. Nessuno in America è capace di dire no tap, sit up, no tap, sit up. Puoi dire non sapevo niente. È stata Manina. Manina. Ciao Manina. Ciao Manina. Lui. Io conosco lui. Suo amico, come si chiama? Batisto. 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 Quello lì.